Signore Gesù, pietra scartata dai costruttori, che Dio ha posto come fondazione del Regno dei Cieli, aiutaci non cadere nella tentazione di piegare la Sua volontà alla nostra, ma illuminaci affinché la nostra sia voce della Tua parola e la nostra fatica sia il riflesso della Tua azione. Fai che i nostri gesti rituali e il nostro impegno non siano motivati dal desiderio di affermazione e di ostentazione, ma siano generati dalla meditazione della Tua parola, dalla contemplazione della Tua volontà e dall'umile disponibilità a mettersi a servizio dell'architetto del mondo, come una matita nella sua mano. Amen. Grazie